Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché guarda la passata da oggi è dentro il mondo. Preghiamo, concedi a noi Signore di vivere e operare in quella carità che spinse il tuo figlio a dare la tua vita per i fratelli. Lui che è via, vive e regna, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, bene che il tuo regno sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in deprazione, ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, lo è sempre, nel secolo dei secoli. Amen. Nel dolore Gesù è più vicino, egli guarda, è lui che viene a mendicare bene e lacrime, e ha bisogno per le anime. Santa Madre, devo fare, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.